Bentornati! In un video passato vi ho parlato di dialogo interiore e vi ho spiegato come utilizzarlo per il vostro benessere. Oggi voglio approfondire questo argomento e parlarvi della relazione tra dialogo interiore e disturbi psicologici. Ciao, se non mi conoscete io sono Angelo e in questo canale YouTube vi parlo di psicologia, autostima, crescita personale, miglioramento delle vostre relazioni. Se siete interessati a questo argomento, se vi interessa la crescita personale, iscrivetevi subito al mio canale. Qui trovate un piccolo logo con il mio nome. Cliccandoci vi potrete iscrivere subito. E mi raccomando, non dimenticatevi di cliccare sulla campanellina delle notifiche, così riceverete una notifica ad ogni mio nuovo video. Grazie alla vostra iscrizione e ad un bel like mi sosterrete in questo mio progetto. Come vi ho detto in presentazione, oggi volevo tornare con voi a parlare di dialogo interiore ed in particolar modo della stretta relazione tra il dialogo interiore e disturbi psicologici. Ma prima di parlarvi di questa relazione ricordiamoci che cos'è il dialogo interiore. Il dialogo interiore è il dialogo che noi abbiamo con noi stessi continuamente. All'interno di questo discorso intimo noi facciamo valutazioni, ci diamo delle affermazioni, programmiamo il futuro, facciamo domande a noi stessi. Il dialogo interiore influenza il nostro stato emotivo e di conseguenza anche le nostre azioni. Come potete ben capire vi è una stretta relazione tra dialogo interiore e emozioni e di conseguenza dialogo interiore e disturbi psicologici. Cominciamo a riflettere sulla relazione tra il nostro dialogo interiore e l'ansia. Come ormai sapete per i miei numerosi video sull'ansia, l'ansia è l'attivazione fisiologica che noi mettiamo in atto quando ci troviamo davanti ad un pericolo. Se volete approfondire che cos'è l'ansia e come affrontarla vi lascio alcuni video giù in descrizione. Il nostro campanello di allerta, la nostra ansia si attiva anche quando noi produciamo un dialogo interiore caratterizzato dalla minaccia. Molto spesso infatti le persone che soffrono di ansia hanno pensieri catastrofici sul futuro. Cominciano a pensare che non ce la faranno, che non sapranno gestire la situazione temuta. Altre volte identificano in maniera catastrofica gli eventi futuri, pensando che andrà tutto male, che non riuscirò a superare l'esame, sicuramente verrò bocciato all'esame di guida. Come potete ben immaginare, questo dialogo interiore caratterizzato dal catastrofismo, da pensieri negativi riguardo il futuro, dalla sensazione di pericolo e minaccia, attiva il nostro livello di ansia. Altra situazione invece è quando le persone soffrono di depressione. La persona che soffre di depressione molto spesso ha un dialogo interiore caratterizzato dal pessimismo, dalla negatività, dal senso di colpa, dalla mancanza di speranza verso il futuro. Le persone che soffrono di depressione molto spesso dicono tra sé che non sono adeguate, che non sono delle brave persone. Era meglio in passato, ho perso delle cose che non torneranno, ho sbagliato tutto. Questo dialogo interiore caratterizzato dalla negatività, dalla perdita, dalla mancanza di futuro, porta ad avere emozioni negative, portano ad avere un abbassamento del tono dell'umore. Questo dialogo interiore è caratterizzato anche dall'idea di non poter far nulla per cambiare le cose. Di conseguenza la persona comincia a vivere uno stato di inattività, comincia a sviluppare un senso di apatia che lo porta a rallentare le attività quotidiane e a provare disinteresse per le cose che prima le interessavano. Le persone che soffrono ad esempio di un forte senso di colpa molto spesso hanno un dialogo interiore caratterizzato dall'accusarsi di non aver fatto ciò che dovevano fare. Per esempio Paola si accusava in continuazione di non aver ringraziato abbastanza l'amica che l'aveva accompagnata alla riunione scuola famiglia. Continuava a ripetere dentro se stessa nel suo dialogo interiore, ho sbagliato, dovevo ridarle soldi, dovevo mostrarle più gratitudine, sono un'approfittatrice. Questo dialogo interiore legato all'idea di non aver fatto ciò che doveva fare la portava a vivere un forte senso di colpa. Il dialogo interiore è caratterizzato da regole rigide su come ci si deve comportare. Se volete approfondire il potere del senso del dovere e volete imparare a superarlo, vi lascio in basso il link al video che ho caricato per l'occasione. L'influenza delle regole rigide può essere anche alla base della rabbia. Per esempio, il dialogo interiore delle persone che provano forti momenti di rabbia è legato all'idea di come gli altri dovrebbero comportarsi. Nel dialogo interiore di queste persone troviamo spesso l'affermazione non doveva comportarsi così. Questo non è giusto, non doveva assolutamente farlo. Come è possibile immaginare questo dialogo interiore è alla base della rabbia che tante persone provano. Spero che con questi piccoli suggerimenti, con queste piccole indicazioni, vi abbia spiegato meglio la relazione tra il nostro dialogo interiore e i disturbi psicologici, le nostre emozioni. Se volete cambiare il vostro dialogo interiore è fondamentale prenderne prima di tutto consapevolezza. Durante la giornata fermatevi a riflettere su quello che state dicendo dentro voi stessi. Riconoscendo il dialogo interiore riuscirete anche ad essere consapevoli delle trappole che ci sono dentro. Spero che queste indicazioni vi possono essere utili. Se avete domande, come sempre, scrivete nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video!